ciao a tutti amici di GP1 eccoci qui ancora da ECMA 2022 ECMA che si sa è il ritrovo mondiale per gli appassionati delle due ruote ma in tanti non vengono solo per le due ruote c'è qualcos'altro che alla fine attira l'attenzione di tanti maschietti che vengono in questo posto ma se tanti possono essere più garbati ed educati altri si possono spingere un po' più in là e fare delle domande come si può dire un po' spinte alle ragazze che stanno sulle moto sentiamo e andiamo a scoprire con loro che cosa sono le cose più assurde che si sono sentite dire in questa fiera ciao a tutti ragazzi io sono Elena Berlato mi raccomando seguitemi e la cosa più strana che mi è successa a ECMA un uomo mi ha leccato l'orecchio e poi è scappato via poi un altro mi ha parlato del suo allevamento di lumache oppure gente che mi annusa i capelli non so cose di questo tipo ciao sono Laura allora la cosa più strana che mi è successa in realtà è un po' piacevole è un po' strana avevo fatto una storia su Instagram dove avevo detto per scherzare ragazzi se volete portarmi da mangiare io apprezzo qualsiasi cosa purché sia salata mi hanno portato dei panini al prosciutto ma anche dei panini con la porchetta e la maionese e pretendevano che io la mangiassi davanti a loro ok l'ho fatto però perché avevo fame ciao sono Federica Negri una delle cose più strane che mi è successa a ECMA è che su Instagram mi hanno contattata per dirmi se vuoi ti porto a casa a patto che mi insulti per tutto il viaggio dopo la fiera anche no ciao ciao a tutti sono Francesca Ottati e qua ad ECMA succedono tantissime cose l'ultima perché le altre manco me le ricordo mi hanno detto se non è tutto inclusive io la moto non la compro senza di te questo ed altro ciao sono Elsa allora la richiesta più assurda che mi hanno fatto a ECMA per se in realtà anche un grande classico è la foto dei piedi ciao ragazzi sono Alessia io sono Maria questo individuo mi ha chiesto se potevo vendergli la mia tuta usata per sei giorni di ECMA alla fine della fiera e che dire a voi commenti perché è imbarazzante a me invece è successo che un tipo mi seguisse e mi osservasse da dietro le colonne per due ore e ho dovuto chiamare la sicurezza allarme stalker ciao ragazzi mi chiamo Corinne e la cosa più strana che mi è successa durante l'ECMA è stata quando c'è stato un ragazzo un uomo anzi è venuto da noi a farsi una foto con noi e praticamente ha detto che utilizzerà questa foto al tribunale del divorzio con la moglie siamo rimaste un po' sbalordite da questa espressione però niente ciao a tutti sono Elena e sono sulla moto le campioni del mondo bagnaia ovviamente se la cosa più strana che mi è accaduta quest'anno all'ECMA è stato un visitatore che è venuto e mi ha fatto vedere l'instagram di suo figlio proponendomi di mettermi insieme a lui ciao siamo Flora e Arianna è successo un episodio che ero di spalle alla mia moto in piedi e uno dietro continuava a parlare 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 a un certo punto mi sono girata per dirle con chi stesse parlando e lui mi ha detto no tranquilla hai un culo che parla parlo con lui ciao GP1 sono Stefanie e ieri per il mio primo giorno di ECMA mi è successa una cosa abbastanza imbarazzante ero al banco si è avvicinato un signore mi chiede se avevamo dei gadget cosa che non avevamo e quindi gli ho detto no guardi non abbiamo nessun gadget e a un certo punto mi fa ma lei gioca a ping pong e ho detto no non non di recente come mai e lui mi ha detto se vuoi le palline ce le metto io ciao sono Raffaella e io sono Cecilia volete sapere cosa mi è successo l'altra volta viene un ragazzo mi fa ma tu ce l'hai il porto d'armi tu hai il porto d'armi no perché uccidi con quegli otto invece cosa è successo a me che un ragazzo sta prendendo un caffè è passato di fianco a me e mi ha detto ma là te lo metti te ciao sono Giorgia poco fa è arrivato un signore che ha detto il sogno di ogni uomo è quello di essere punto da una festa come te ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1 grazie ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1 ciao GP1